Episodio 3 Ecco il negozio, ma che foto cerchiamo? Un uomo con un cappello da chef? Forse una foto di mio padre. Ho un'idea. Tu entri e compri qualcosa da mangiare. Io e Marco cerchiamo la foto. Scrivi una lista. Una lista. Allora, compri un pacco di spaghetti. Un chilo di farina. Mezzo chilo di tagliatelle. Buonissime. Cento grammi. Un etto. Pasta fresca. E una scatola di ragù. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi dica, come posso imparla? Che cosa avete di buono oggi? Allora, oggi abbiamo appena appena confezionato questi tortelloni. Che cos'hanno di ripieno dentro? Ripieno, zucca, parmigiano, uovo. Sono molto buoni, appena fatti. Ne prenderei un po'. Mi dica per quante persone. Siamo in due. Allora, facciamo dieci, le va bene? Sì. Due. Quattro. Sei. Otto. Inizi. C'è qualcosa altro che le interessa? Prenderei anche un po' di queste tagliatelle. Tagliatelle quante? Mezzo chilo. Benissimo. Ancora qualcosa? Basta così, grazie. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Buongiorno a lei. Mi dica, posso riparla? Ok, now is your turn. Vorrei, I would like, un pacco di spaghetti. Vorrei un pacco di spaghetti. Subito. Poi, ancora qualcosa che desidera? Try saying it. Un chilo di farina. Va bene. La foto di mio padre. È incredibile. Adesso, cosa facciamo? Poi, cosa possiamo darle? Mezzo chilo di tagliatelle. Benissimo. C'è qualcos'altro? Posso darle? Un etto di pasta fresca. Bene. Ecco, c'è ancora qualcos'altro. Posso darle? Una scatola di ragù. Oh, questo è ragù bolognese. E poi, qualcosa ancora? Qualcosa ancora? Anything else? D'acqua. Basta così. Grazie. Bene, grazie. E faccio il bigliettino. Per la cassa. Grazie. E faccio il pacchetto. You have to pay at the till. La cassa. Ecco. Questo è quanto. Grazie. Buongiorno. Arrivederla presto. Salve. Sono 18,45. Benissimo, grazie. Sembra un anagramma. Bi-te-bo. Te-ca-bi. Bi-bo-te. Bi-bi-bi-o-teca. Biblioteca. Biblioteca. Biblioteca, bravo. Biblioteca. Chiediamo a Francesca, lei lavora in biblioteca? Ciao, Francesca. Sì, sì, siamo stati al museo. Abbiamo un nuovo indizio. Una tavola periodica e la parola biblioteca. Cosa ne pensi? La biblioteca di chimica. Brava, Francesca. Grazie. Grazie mille. Ciao, ciao. È la biblioteca di chimica. La biblioteca di chimica. Ma siamo sicuri? Proviamo, Marco. Sai quanto è importante questa ricetta per me? Success! You found a photo of Serretto. And there was something tucked behind the frame. A periodic table. Una tavola periodica. with an anagram of the word Biblioteca, library. That's your next destination. La biblioteca di chimica. The chemistry library at the university. Where you have to make sense of those page references on the map. and it's an object… It's all very important. Come, Grazie.